La pistola. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Senti, questa è una rapina. Dillo tu, per favore. Hai la voce più grossa. Questa è... Questa è... Che è? È proprio una bella giornata, vero? Posso usare il telefono? C'è una bella giornata. Questa è una bella giornata. Questa è un attaccat. Questa è un attaccato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.